A 60 anni dai trattati di Roma, com'è cambiato il modo di fare azienda in Europa? Quali i vantaggi e gli svantaggi nell'europeizzazione dell'orizzonte corporate delle aziende? E perché ancora tante imprese non riescono a sfruttare tutte le opportunità del mercato più ricco del mondo, che conta 500 milioni di consumatori? Di questi temi hanno discusso imprenditori, sindacalisti, decisori, studiosi e giornalisti nell'evento 60 anni di pace e stabilità, organizzato da Unius a Roma nel quadro del programma delle celebrazioni per i trattati. Nella giornata di dibattito si è parlato della dimensione economica dell'Unione Europea, dimensione che, considerata parte fondamentale dell'integrazione, ha dato grandi frutti, ma meno di quelli che era legittimo attendersi, poiché c'è ancora molto spazio per fare impresa, creando occupazione e ricchezza, in particolare per le aziende medie e piccole, definite spina dorsale dell'economia europea, ma poi nei fatti costretta ad affrontare ostacoli e insidie. All'incontro, sponsorizzato da ConfCommercio e patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, sono intervenuti tra gli altri Mattia Dani, consigliere economico del sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto, Nicola Vero, la capo segreteria tecnica del sottosegretario agli affari europei Sandro Gozzi, Antonella Baldino di Cassa Depositi e Prestiti, il segretario confederale CGL Roberto Ghiselli, la vicepresidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo, Patrizia Toia e Alberto Marchiori, incaricato per le politiche dell'Unione Europea di ConfCommercio. ConfCommercio è la più grossa associazione di rappresentanza del mondo del terziario a livello nazionale e a livello europeo ed è da sempre una convinta europeista come associazione. Il nostro presidente, primo presidente Orlando, fu uno dei primi ad aprire la delegazione a Bruxelles, quindi per noi essere in Europa e partecipare a tutto ciò che parla di Europa è fondamentale. 60 anni di pace hanno consentito alle imprese di crescere in un clima diverso da quello a cui eravamo stati abituati, quindi c'è stata una forte consapevolezza che questa componente è una componente molto importante, che molti sottovalutano. Il secondo punto di riferimento è che le nostre imprese si sono dovute adattare per fortuna ad un mercato unico, aperto a tutti, perché questo è il risultato di oggi. In negativo si sono accorti di un eccesso di burocrazia e di anche una carenza politica, di rappresentanza politica nelle istituzioni europee che ha portato al fatto che sia nata l'Europa e non gli europei. A chiudere la giornata di lavori l'intervento del sottosegretario agli esteri Benedetto Adelavedova. Il dato incoraggiante è che le imprese che esportano nei paesi del mercato unico in Europa, le aziende che esportano vanno bene, ce la fanno, crescono e assumono. Il dato non confortante è che sono ancora troppo poche le aziende che esportano, che si internazionalizzano e quindi su questo bisogna lavorare. Il mercato unico è una costruzione che va a vantaggio delle piccole e medie imprese, anche quelle italiane, perché le grandi multinazionali hanno sempre trovato il canale, il modo di muoversi ovunque nel mondo. Le aziende medio-piccole sono quelle che si avvantaggiano di più di avere un mercato unico, cioè tu hai gli standard italiani, produci in Italia, puoi vendere a un mercato di 500 milioni di persone. Nessuno regala niente, ma è una grande opportunità. Ed è confortante che chi questa opportunità già la sfrutta ha risultati positivi. Dobbiamo aiutare di più le aziende che ancora non lo fanno.